Oggi è la giornata in cui il Lions è presente presso l'istituto alberghiero di Silvi e in collaborazione con la rete green della provincia di Teramo ha donato delle piante all'istituto Zoli di Atri. Oggi siamo a Silvi e abbiamo pensato di avvellire e mettere, piantumare queste piante nel nostro bel giardino della scuola. I Lions hanno dedicato proprio quest'anno in maniera particolare a effettuare una serie di service legati all'ambiente perché di questo si tratta, della salvaguardia dell'ambiente e di fatti la giornata mondiale della terra significa sensibilizzare le persone a salvaguardare, piantare un albero ma immaginate il Lions è un'associazione internazionale, si piantano milioni di alberi ed è un patrimonio notevole per l'umanità intera. I Lions perseguono soltanto temi di solidarietà, di aiuto. Come vedete oltre a combattere la povertà adesso c'è questa lotta che ci deve sentire uniti e vedere uniti ma la lotta generale passa attraverso le azioni quotidiane e siamo oggi ben felici di collaborare con il club Atri Terre del Cerrano che ha voluto donare tre piante all'istituto alberghiero che si trova collocato qui a Silvi. L'alberghiero perché? Perché dalle piante ci sono anche le ricchezze che vengono e la possibilità di trasformare i prodotti. Gli alberi due di melograno e uno di caco sicuramente potrà ispirare tutti questi bravissimi ragazzi e i loro professori a trasformare e di fatti ci daranno anche un esempio di come il frutto si può trasformare. Come dire, l'ecosostenibilità passa attraverso il rispetto della natura ma anche la capacità di trasformazione e noi siamo sempre e saremo sempre come Lions al fianco di queste esigenze di tutti per il bene di tutta la terra.